buongiorno a tutti da Paolo D'Ambra di investire.biz ben ritrovati a un'altra puntata di Turbo Daily oggi venerdì andiamo a fare il nostro solito recap dell'operazione che abbiamo in portafoglio però iniziamo subito col dire che questa giornata di borsa sembra essere partita col piede giusto con gli future degli indici americani che scontano comunque un minor timore del rialzo dell'inflazione abbiamo visto ultimamente come il dato del più 6.2 per cento ha superato le attese del 5 e 8 per cento da parte degli degli analisti come dicevo prima quindi andiamo a fare il recap delle operazioni che abbiamo ancora in pancia andiamo a vedere sulla parte di sinistra della nostra piattaforma le nostre operazioni ribassiste come abbiamo visto anche la settimana precedente siamo ancora esposti maggiormente a ribasso sul comparto americano in particolar modo su Zoom che sta dando i suoi frutti e sull'SP500 Nasdaq e infine sul Futsimib bisogna ricordare anche che nelle ultime giornate l'Italia sta vivendo un'ottima performance da parte delle trimestrali da parte delle aziende che comunque stanno pubblicando i loro bilanci risultati sono molto positivi quindi il Futsimib sta continuando a performare molto bene per quanto riguarda invece la nostra parte della piattaforma di destra vediamo quali sono le nostre operazioni ribassiste stiamo al momento ancora a rialzo su Amazon ed Eurodollaro però andiamo a vedere più nel dettaglio alcune operazioni del nostro portafoglio come potrebbero evolvere nelle prossime settimane andiamo a vedere in particolar modo il titolo Amazon come abbiamo visto anche nelle precedenti puntate ha raggiunto un target molto interessante dal quale è tornato poi a scendere sostanzialmente ieri in chiusura abbiamo raggiunto il nostro livello di entrata mi aspetto che il titolo possa continuare a ritracciare giusto quel po' per poi ovviamente avere una spinta rialzista e andare magari a violare il livello resistenziale che appunto ha portato il titolo più e più volte a ritracciare. Per quanto riguarda invece il titolo Zoom dove siamo entrati appunto a ribasso nelle ultime giornate vediamo come il titolo secondo me potrebbe ancora scendere fino al prezzo di 231-230 dollari dove appunto ha posizionato un livello supportivo molto interessante al quale poi ha portato Zoom a tracciare nuovi massimi fino a 587 dollari circa quindi secondo me la prosecuzione ribassista potrebbe appunto continuare. Infine andiamo sull'operazione rialzista che abbiamo sull'euro dollaro vediamo come potrebbe secondo me ancora continuare a scendere il cambio valutario verso la soglia dell'1,145-1,138 visto che ha abbandonato con forza il livello psicologico dell'1,15 quindi questo potrebbe portare l'euro dollaro a scendere ancora fino a questi livelli. Da questo livello appunto 1,138 come lo individuo come ultimo livello supportivo potremmo assistere probabilmente a degli interessanti pullback rialzisti. Visto che siamo esposti maggiormente a ribasso sul comparto americano oggi valuteremo un ingresso a rialzo sul Dow Jones, quindi andiamo sul grafico per vedere appunto i livelli operativi. Ho individuato un livello a 35.900 punti, un livello molto vicino ai livelli di chiusura di ieri, questo perché vorrei che l'ordine entrasse subito al mercato visto che secondo me potremmo beneficiare ancora di questo trend rialzista. Andiamo a posizionare un livello di uscita, uno stop loss a 35.400 punti sotto il ritracciamento delle ultime settimane, un filo non target molto ambizioso a 37.000 punti. Andiamo sullo sito di B&P Paribas per vedere il certificato di oggi, è un certificato che termina con il codice G13 che ci offre tra l'altro una leva abbastanza alta a 6,59 ma ci dà anche un livello di knockout molto lontano a 30.824 punti, distanza del 14,29%. Vi ricordo che non è una scadenza questo certificato che è un certificato open-end quindi potremmo anche beneficiare del fattore tempo per lasciare la posizione aperta finché ovviamente risulterà necessario. Il prezzo elettro al momento quota 47 euro e 45 centesimi, torniamo quindi sulla piattaforma per eseguire infine il nostro trade, un trade che verrà eseguito al prezzo di 47 euro come vi dicevo prima un prezzo molto vicino ai prezzi di mercato attuali per 21 pezzi quindi un margine di 1000 euro circa. Eseguito il trade andiamo a fare un breve recap dell'operazione giornaliera. Abbiamo detto che la strategia realzista in atto è sul sottostante Dow Jones, livello di ingresso impostato a 35.900 punti, stop loss 35.400 punti, target 37.000. Per oggi è tutto, come sempre vi do appuntamento direttamente lunedì e vi auguro buon trading a tutti. Grazie. 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 Grazie.